Musica Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano Pavia News. In primo piano ancora la questione dei dati riguardanti l'epidemia da coronavirus perché ci sono ancora varie segnalazioni che arrivano da diversi comuni del Milanese e pare essere andato nuovamente in tilt il sistema che conteggia i contagiati nei singoli comuni. Andiamo a collegarci con Trezzano sul Naviglio dove c'è Stefano Galimberti in diretta. Buongiorno Stefano, tra l'altro tu ti trovi in uno dei pochi comuni di quella zona dove forse i dati sembrano non essere impazziti. Sì esatto Paolo, Trezzano è l'unico comune in cui i dati sui contagiati Covid restano più o meno in linea o comunque non ci sono dati che fanno percepire all'amministrazione il fatto che non siano corretti. La questione è diversa per gli altri comuni perché a partire dal caso di Cesano Boscone dove si era passati da 1.332 negativi, cioè positivi che erano poi scomparsi a 56, proprio ieri sera il dato si è riempennato e è tornato a 416. Discorso inverso a Buccinasco dove dal momento in cui i dati sono diventati corretti dopo le segnalazioni del caso di Cesano Boscone si è passati da 244 a 64 così come a Corsico, sempre nell'area qui a Sud Milano dove si trova Trezzano, dove si è passati da 387 a 104. Però non è solo l'area Sud Milano dove i sindaci lamentano delle incongruenze nei dati perché in Veruno per esempio nel Magentino è un caso in cui si è passati ieri mattina a 163 positivi e il sindaco poi ha effettuato le chiamate ai cittadini che sarebbero stati positivi e alla fine quelli veri erano 29. Nello stesso pomeriggio quei 29 per la regione non erano più 29 per ATS ma erano 11. A Cornaredo invece si era passati da 60 a 355, quindi è ancora un po' in tutti i comuni della provincia che i sindaci non sanno bene se fare affidamento su quelli che sono i dati da ATS o dalla loro conoscenza diretta del territorio e dei cittadini. Grazie Stefano, naturalmente c'è poi la polemica che continua per quanto riguarda l'invio dei dati per il calcolo dell'ERECONTI dalla regione all'Istituto Superiore di Sanità e quindi al governo e a questo proposito i consiglieri regionali Elisabetta Strada di Lombardia Civici Europeisti e Michele Usuelli di Più Europa hanno chiesto ufficialmente un accesso agli atti per avere i dati dei contagi Covid comunicati negli ultimi mesi da regione Lombardia al governo per il calcolo dell'indice ERECONTI. In particolare Strada e Usuelli chiedono di avere copia di tutti i dati che sono stati trasmessi da regione Lombardia al Ministero della Salute per il calcolo dell'ERECONTI da novembre 2020 a gennaio 2021, così come di avere copia delle comunicazioni che sono state inoltrate da regione Lombardia al Ministero della Salute relative alla richiesta di ricalcolo dell'ERECONTI a seguito della classificazione in zona rossa. Il Presidente Fontana hanno dichiarato Strada e Usuelli e continua a urlare che siamo vittime di accanimento da parte del Ministero e invece fondamentale fare chiarezza per i beni delle istituzioni e dei cittadini che continuano a pagare sulla loro pelle. Quindi questa fortissima polemica. Rimaniamo in tema Covid ma parliamo di vaccini perché l'assessore Letizia Moratti ha fatto il punto su quali saranno le prossime tappe della campagna vaccinale. A causa dei ritardi nelle consegne e dell'inserimento di ulteriori categorie nella prima fase delle somministrazioni, il piano vaccinale di regione Lombardia è costretto ad una riprogrammazione in corsa. Ieri a spiegare la nuova linea di marcia della regione è stata la neo-assessore al welfare Letizia Moratti che in Commissione Sanità ha elencato punto per punto le fasi dell'operazione. L'attuale fase 1 che comprende la vaccinazione di operatori sanitari, sociosanitari e ospiti delle RSA dovrebbe terminare il 5 di marzo con la somministrazione della doppia dose ai 320.000 che hanno aderito alla campagna su un totale di 340.000 che ne avrebbe avuto invece diritto con una percentuale di adesione del 94%. Nel dettaglio ha detto sì al vaccino l'89% di medici e infermieri, l'83% degli operatori non sanitari, il 91% degli ospiti delle RSA e l'82% degli operatori delle RSA. Dal 5 marzo fino al 25 del mese scatta invece la nuova fase 1 bis destinata ad altre categorie ritenute più a rischio, residenze sanitarie per disabili e psichiatriche, assistenza domiciliare, farmacisti o dontoiatri, ambulatori accreditati, medici liberi professionisti, sanità militare e il personale da utilizzare per la successiva vaccinazione di massa, come la pulizia di Stato. Se si rispetteranno così i tempi delle consegne, dal 26 marzo si potrebbe già partire con la fase 2, quella dedicata agli ultraottantenni, circa 700.000 persone, alle persone tra i 60 e i 79 anni, circa 2 milioni, e i malati cronici fragili, circa un milione. Per pianificare le vaccinazioni però, ha concluso la Moratti, è essenziale avere una visibilità di medio periodo sul piano vaccinale, è per questo che ho inviato una lettera al commissario Arcuri per dare una comunicazione precisa e puntuale ai cittadini, che potranno così avere la possibilità di fare prenotazioni con anticipo e in maniera il più precisa possibile. In questa edizione, ieri abbiamo dato praticamente in diretta, pochi minuti dopo il termine della conferenza stampa, tutte le informazioni relative all'inchiesta, che ha riguardato la centrale a Cippato di Olevano di Lomellina, una presunta truffa, con lo scopo di intascare, senza averne diritto, gli incentivi per le energie rinnovabili. Nelle carte dell'inchiesta si trovano molti elementi che erano stati denunciati negli anni da varie associazioni ambientaliste, una in particolare. Vediamo l'intervista. Abbiamo sempre avuto il sospetto, e l'abbiamo denunciato più volte, che l'approvvigionamento delle piopelle non avvenisse non avvenisse nei 70 chilometri di legge. Per cui oggi non siamo stupiti di quello che è successo. Futuro sostenibile in Lomellina, oggi una delle realtà ambientaliste più importanti del territorio, nacque nel 2008 proprio per contrastare l'autorizzazione alla centrale di Olevano, all'epoca la più grande d'Italia fra quelle a Cippato. Negli elementi portati alla luce nell'inchiesta della procura di Pavia riecheggiano molte delle denunce portate avanti dall'associazione, a cominciare dall'accusa fondamentale che veniva mossa alla centrale. Un impianto troppo grande per essere alimentato solo con legna locale, proveniente da un raggio di 70 chilometri, così come previsto dalle norme per ottenere gli incentivi per le energie rinnovabili. Una tesi che Futuro Sostenibile in Lomellina era convinta di aver dimostrato vincendo la sentenza al TAR del 2010 contro l'autorizzazione alla costruzione della centrale, sentenza ribaltata qualche mese dopo dal Consiglio di Stato. Vennero tolte tutte le autorizzazioni dal TAR a cui si fece ricorso e poi in una sola seduta del Consiglio di Stato a cui fece ricorso Mary Teckman ottenne invece l'autorizzazione a costruirla. Poi venne successivamente autorizzata per bruciare 180.000 tonnellate di pioppelle. Noi abbiamo sempre contestato il fatto dei 70 chilometri, cioè l'abbiamo fatto presente sia all'inizio quando venne presentato il progetto facendo fare degli studi proprio dagli agronomi che rilevarono che non c'erano nei 70 chilometri 180.000 tonnellate all'anno di pioppelle. Negli anni gli ambientalisti avevano continuato a denunciare la situazione, ora rincarano la dose alzando dubbi non solo sulla provenienza del legname utilizzato per alimentare la centrale ma anche sulla tipologia e parlando di una presa in giro per i cittadini che pagano gli incentivi per le rinnovabili attraverso la bolletta dell'energia elettrica. Quando si vedevano questi camion dicevamo ma come fanno ad essere pioppelle di due anni e mezzo se questi hanno dei tronchi così grossi, cioè ci sembrava molto strano, anche proprio come materiale. È stato, è un impatto non solo ambientale, è stata anche una presa in giro nei confronti cittadini. Ieri mattina vi abbiamo trasmesso in diretta la cerimonia per la giornata della memoria che si è svolta a Pavia. A margine però c'è stata anche una sorta di incidente diplomatico. Ci colleghiamo proprio con Pavia dove vedo Mario Fortunato con il protagonista, il suo malgrado di questo episodio. Mario, te la linea. Sì Paolo dicevi bene perché ai più non sarà sfuggita l'assenza ieri durante le celebrazioni ufficiali del giorno della memoria in sala consigliere a Pavia del Presidente del Consiglio Comunale Nicola Newt, un piccolo giallo anche perché quasi contestualmente alle celebrazioni in comune lo stesso Presidente stava celebrando la giornata nei pressi delle pietre d'inciampo posizionate in città. Allora la domanda è che cosa è successo, è stato un errore o un misunderstanding diplomatico? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Non lo so, non lo so perché non mi è stato detto, non ho chiesto, però insomma ho ritenuto doveroso fare qualcosa comunque in quanto non solo per il ruolo che per me lo rende ancora più importante ma anche come normale cittadino ovviamente. ribadisco, non lo so il motivo per cui questa cosa non sia stata fatta anche con la mia presenza considerando che come forse tutti sapete anche perché... Tanto la interrompo perché stiamo vedendo proprio anche delle immagini di una lettura di Primo Levi se non sbaglio. Sì esattamente, ho ritenuto ovviamente non potendo partecipare in sala consiglio, sembra quasi ironico che non possa partecipare in sala consiglio anche perché è come dire da lì gestisco quasi tutte le attività consigliari quindi per me sarebbe stata una cosa normale così non è stato quindi ho deciso come dicevo di fare un qualcosa di alternativo secondo me comunque doveroso, recandomi presso le pietre d'inciampo presenti in alcune vie e piazze della nostra città per leggere, per dedicare un momento di raccoglimento e di lettura di alcuni passaggi di Primo Levi. Io credo che nel passato non sia mai accaduto che il presidente del Consiglio Comunale non sia stato invitato a una celebrazione come questa specialmente se tenuta nell'aula del Consiglio Comunale. Non tanto per una questione di rispetto personale ma per una questione di rispetto del ruolo il presidente del Consiglio e il vicepresidente del Consiglio, io stendo anche questa considerazione al vicepresidente Gregorini, neanche lei è invitata ovviamente, al fatto che si rappresenti una città, il Consiglio Comunale ha al suo interno i rappresentanti eletti dai cittadini e legittimamente in grado di rappresentarne le istanze, la voce e la presenza qui sulla città di Pavia. Chi meglio del presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale a loro volta, se volessimo fare una considerazione di contingentamenti e ristrettezze, quindi senza invitare tutto quanto il Consiglio Comunale forse sarebbe stato eccessivo, però i rappresentanti chiamiamoli in capo, forse sì, sarebbe stato il caso. Brevemente in una battuta, questa sera però ci sarà il presidente del Consiglio Comunale in sala consigliare Paolo perché è convocata la seduta del Consiglio Comunale come abbiamo documentato con un servizio, non vi sono particolari delibere, diciamo lo smaltimento di un po' di lavoro arretrato sull'instant question. Diciamo che se stasera mi lasciano entrare, presiderò uno dei primi consigli comunali del nuovo anno, perché ricordo ce n'è stato solo un altro, ma era un Consiglio Comunale aperto sulla tematica scolastica, quindi diciamo che l'attività di votazione delle delibere ricomincia questa sera. Abbiamo come delibera la votazione del bilancio di Apolf, sapete tutti, immagino che tutti sappiano almeno quale sia l'attività di Apolf sulla città di Pavia, specialmente in un momento delicato come questo in cui gli studenti di qualsiasi ordine grado hanno difficoltà, io per questo mi sento di dover fare complimenti anche a chi gestisce la scuola in questo momento, al Presidente Alessandra Quattrini che ha dimostrato notevole abilità nel ruolo, dopodiché avremo gli ordini del giorno collegati al bilancio perché come il regolamento del Consiglio Comunale prevede, gli ordini del giorno che vengono presentati in sede di bilancio possono essere discussi anche dopo il Consiglio che prevede la votazione sull'atto medesimo. Quindi stasera avremo qualche ordine del giorno di questo tipo, sono 5 o 6, i primi riguardano alcune istanze presentate da Forza Italia che appunto parlano in considerazione anche di quello che dicevamo sul Consiglio Comunale di qualche settimana fa, proprio del tema scolastico. Grazie a Nicola Newton anche per questo chiarimento, Paolo ti restituisco la linea. Grazie, una notizia di cronaca da Milano, perquisizioni nelle abitazioni di 4 anarchici milanesi nell'ambito delle indagini per danneggiamenti avvenuti lo scorso 8 gennaio ai danni di altrettanti uffici postali cittadini, dove erano stati messi fuori uso i posta, ma attraverso l'utilizzo di liquido sigillante. Durante l'operazione in uno degli appartamenti è stata rinvenuta una busta di plastica contenente alcuni indumenti, una felpa, dei pantaloni, una tuta e un paio di guanti. Gli investigatori della Digos hanno ricollegato l'indagine in corso sulle azioni di danneggiamento. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la persona perquisita è stata indagata, è stata di libertà, per rato di danneggiamento aggravato. Torniamo a Trezzano sul Naviglio, vedo che il sindaco Bottero ha nel frattempo raggiunto il nostro Stefano Gallimberti. Stefano, questi sono i giorni, poi domani si deciderà, in cui si farà il ricollocamento delle regioni italiane in fascia di rischio, ma probabilmente ci saranno poche novità per quello che ci interessa il nostro territorio. Esatto Paolo, per quello che è noto ora la Lombardia dovrebbe rimanere in zona aranciosa, e oggi la particolarità della zona arancione è che per esempio qui a Trezzano al mercato possono tornare i venditori anche non di generi di prima necessità e di alimentari. La zona arancione di cui beneficiano per esempio alcuni venditori dei mercati, ma che non cambia sostanzialmente quella che è la situazione per esempio dei ristoratori. Proprio ieri per esempio nel nostro programma di approfondimento l'Inattualità abbiamo seguito quella che è stata la manifestazione dei ristoratori del Magentino che si è tenuta a Corbetta, ma ovviamente non è solo nel Magentino per quanto riguarda la provincia di Milano che i ristoratori sono pronti a far sentire la loro voce perché è proprio notizia di oggi che anche qui a Trezzano, come confermerà il sindaco, domani si terrà una manifestazione più o meno analoga. Ecco, sindaco, cosa si aspetta questa manifestazione? Qual è la situazione che lei percepisce dai ristoratori, dai commercianti della sua città? Sì, allora evidentemente i ristoratori sono in sofferenza, non hanno compreso anche a Trezzano ovviamente come a livello nazionale questa stretta continua, la manifestazione è organizzata dai rappresentanti dei ristoratori, a noi ci hanno informati insieme a tutti gli organismi competenti autorizzati dalla Prefettura e Questura, quello che io dico è importante fare tutti i tipi di manifestazione, il diritto c'è ma farlo in sicurezza perché ancora siamo in zona arancione e vogliamo migliorare sempre. Dal punto di vista della solidarietà a chi soffre, a tutte le categorie che soffrono dal punto di vista economico è totale da parte dell'amministrazione comunale, noi abbiamo anche predisposto un bando per sostenere retroattivamente i commercianti anche fino a 250 mila euro abbiamo messo di risorse a disposizione per la tassa rifiuti e sostenerle per appunto i mesi precedenti, però per quanto riguarda il guardare avanti è evidente che mi aspetto un tavolo a livello nazionale che tra le associazioni di categoria dei ristoratori e il governo per trovare una soluzione che gli consenta di lavorare nel rispetto delle regole e nella massima sicurezza. Chiaro, infatti è un po' quello che chiedevano i ristoratori ieri anche a Corbetta, chiedevano maggiori i ristori soprattutto la possibilità di tornare a lavorare chiaramente non come prima della pandemia ma in un modo che possa permettergli di mantenere vive le loro attività di non doverle chiudere, di non dover licenziare i dipendenti, però appunto per sentire bene quelle che sono stati i sentimenti ieri della manifestazione organizzata a Corbetta lasciandovi lancerei quello che è il servizio che abbiamo realizzato proprio seguendo la manifestazione dei commercianti magentini a Corbetta. Si è svolta ieri sera a Corbetta la tanto attesa manifestazione dei ristoratori del Magentino, quasi un centinaio gli imprenditori presenti nel momento di massima affluenza alla protesta pacifica che ha avuto luogo davanti al municipio di Corbetta dove la piazza pubblica è stata messa a disposizione da parte del sindaco Marco Ballarini presente insieme ai commercianti. per esprimere il suo sostegno. Tra i sindaci del territorio sono giunti a Corbetta, a iniziativa in corso, anche il sindaco di Magenta Chiara Calati e il primo cittadino di Mesero Davide Garavaglia. I ristoratori, chiamati da più di una settimana all'appuntamento da Davide Valenti, titolare del peyote e caffè di Magenta e da Betty Cherry del ristorante Betty Cuore, sempre di Magenta, hanno rispettato al meglio possibile le misure anti-assembramento anche nel piano della manifestazione. Uno alla volta, con dei cartelloni in mano in cui chiedevano aiuto al sindaco Ballarini e dignità per il proprio lavoro, hanno raccontato le loro storie e il loro vissuto di questo ultimo anno, l'impossibilità di continuare nell'incertezza di misure dei DPCM che gli impediscono di programmare il futuro e, se non di tornare a lavorare a pieno regime, almeno di farlo in modo da poter mandare avanti le loro attività, sostenere le proprie famiglie e quelle dei loro dipendenti. Il lavoro è un diritto è stata la frase più ripetuta dei ristoratori magentini ieri sera, citando la Costituzione. Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, esprimendo solidarietà ai ristoratori dei quali ha accolto l'appello, ha detto chiaramente che la salute e la sicurezza dei cittadini non possono che essere la priorità per un sindaco, ma che, dal canto suo, non può non affermare che è impossibile aspettare la conclusione della campagna vaccinale nazionale per permettere alla gente di tornare al lavoro. Bisogna imparare a convivere con il virus, ha detto, perché è indispensabile per le vite di tutti poter tornare a lavorare in tutti i campi economici con delle regole chiare che non impediscano alle persone di costruire già oggi, nel presente, la fiducia nel proprio futuro. Torniamo a Pavia, da Mario Fortunato, questo è un periodo di bilancio per quanto riguarda la polizia locale, naturalmente si vede l'effetto del lockdown, delle zone rosse, anche banalmente nelle contravvenzioni. Sì Paolo, perché come sapete nel bilancio previsionale si deve stimare quanto si incasserà dalle multe, è un procedimento che viene tutti gli anni nel documento finanziario dell'ente, ebbene sono stime che si fanno evidentemente su quanto incassato dagli anni precedenti. Nel 2021, gioco forza, si dovrà guardare quello che è accaduto nel 2020, ma è un periodo dell'anno, il 2020 è stato particolarmente segnato dall'emergenza sanitaria e in effetti con le limitazioni pochissime sono state le auto in giro a partire da marzo in poi. Basti guardare quanto è incassato, 1.400.000 euro nei primi tre mesi dell'anno ed è quanto si pensa e si spera almeno di incassare anche quest'anno. Cifre lontanissime però dal 2019, quando le contravvenzioni per violazioni al codice della strada avevano frottato più di 2 milioni di euro. e anche il numero delle contravenzioni stesse parla chiaro, nei primi tre mesi erano state 35.000, questo è riferito all'anno scorso, nel 2019 invece 50.000. Questo è un po' il quadro attuale, ovviamente sono cifre che poi andranno ricalibrate nella seconda parte dell'anno. Grazie Mario, noi ci occupiamo adesso di una polemica molto forte che si sta sviluppando a Milano, c'era un problema da risolvere nel progetto della nuova linea metropolitana che era collegamento con la M3, cioè tra la futura fermata di Sforza e quella attuale di Missori. Alla fine si è trovata una soluzione che molti definiscono una non soluzione e la politica naturalmente sta facendo polemiche molto accese. Potrebbero essere definiti i 300 metri della discordia. Sono quelli che separano la fermata Missori della linea gialla della metropolitana milanese da quella di Sforza Policlinico sulla futura linea blu che aprirà a tratti tra il 2021 e il 2023. Il collegamento tra le due stazioni è al centro del dibattito dopo che Palazzo Marino ha deciso di realizzarlo parzialmente in superficie anziché con un tunnel interamente interrato. Da Missori ai piedi della Torre Velasca infatti si dovranno percorrere due minuti sottoterra fino a un'uscita su via Pantano a 300 metri dall'ingresso della M4 di Sforza Policlinico. Da lì serviranno altri tre minuti sottoterra per raggiungere le banchine per un tempo totale stimato di nove minuti a piedi. Una soluzione dal costo previsto di poco meno di 10 milioni di euro che ha fatto storcere il naso a qualche consigliere dell'opposizione che contesta anche i calcoli del comune. Il collegamento effettivamente non esiste, non c'è, è un collegamento del tutto aleatorio, costruito tutto in superficie e che porterà purtroppo le persone a collegarsi da una parte all'altra con un percorso di oltre 12 minuti. Quindi non è un collegamento, è una presa in giro ai cittadini, si poteva fare molto di più, una città come Milano doveva fare molto di più. Oggi purtroppo siamo a poco tempo dall'apertura definitiva e quindi non ci sarà più niente da fare, purtroppo sarà questa la soluzione scelta da loro, ma assolutamente ha sbagliato in questi anni a non valutare opzioni differenti che avevamo anche proposto tramite una mozione che però purtroppo ci aveva fatto ritirare. L'assessore alla mobilità Marco Granelli replica che la decisione è dovuta al tracciato della futura linea blu stabilito dalle precedenti amministrazioni di centrodestra e ricorda che questa soluzione sarà accompagnata da una profonda riqualificazione dell'area circostante la statale, con la creazione di una grande area pedonale e la piantumazione di nuovi alberi, garantendo al contempo l'accessibilità delle stazioni per i disabili. Nota difficile per i carabinieri del radiomobile di Vigevano che hanno dovuto fronteggiare una situazione piuttosto complicata. Avevano ricevuto la chiamata di un settantenne pluripregiudicato che sosteneva di essere preoccupato perché non riusciva più a contattare una sua conoscente, cittadina cinese, per la quale temeva un malore o addirittura un sequestro. Arrivati nel luogo indicato come residenza della cinese, i militari hanno trovato il settantenne intento a bucare le gomme di un'auto con un grosso coltello, sostenendo che si trattava della vettura del sequestratore. I carabinieri hanno cercato di calmarlo ma l'uomo ha cominciato a minacciarli con lo stesso coltello che stava utilizzando per il danneggiamento. Bloccato e ammanettato, il settantenne è stato quindi arrestato. La signora cinese stava benissimo, stava tranquillamente dormendo nel suo appartamento. L'uomo è stato portato in carcere dopo l'udienza di convalida ed è in attesa di perizia psichiatrica. Vediamo anche una notizia dell'ultima ora riportata sul web, andiamo su Milano Today, si riferisce a un incendio che è avvenuto questa mattina a Pero, incendio a Pero, fiamme in via Curiel, devastato un ufficio, un'alta colonna di fumo nero. È successo appunto questa mattina sul posto di vigile del fuoco il 118, non ci sarebbero feriti, è stato comunque evacuato il palazzo, un'operazione dei vigili del fuoco che è andata avanti per tutta la mattinata, lo ribadiamo, è successo a Pero in via Curiel. Ci fermiamo qua, vi ricordo alle 17, l'appuntamento con Maria Rosa Aurelio e a Tuppertuccon, poi alle 18 l'inattualità e quindi i telegiornali della sera. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.